Tra le artiste dimenticate dalla storia dell'arte c'è Plautilla Nelli, al secolo Polissena Margherita De Nelli, nata a Firenze nel 1524 e fatta simonaca nel convento di Santa Caterina da Siena col nome di Sur Plautilla. Il merito della riscoperta di quest'artista fiorentina va ad Aua, una fondazione che ha il compito di valorizzare le artiste fiorentine e a cui si deve anche il restauro delle tre opere firmate di Sur Plautilla. Eppure era citata dal Vasari il quale dice di lei avrebbe fatto sicuramente cose meravigliose se come fanno gli uomini avesse avuto modo di studiare e attendere al disegno e ritrarre cose vive e naturali e in effetti Sur Plautilla non ha potuto studiare, era autodidatta e quando dipinge il nudo di Cristo lo fa avendo come modello il cadavere di una consorella, per cui il suo nudo ha tratti femminei e le consorelle la prendevano in giro dicendo che invece di Cristi faceva Criste. Le opere note come ho detto sono tre, una è questo compiato su Cristo morto, poi c'è una Pentecoste che valorizza la componente femminile del gruppo e poi c'è un Cenacolo, l'unico Cenacolo di mano femminile che conosciamo è un dipinto enorme, recentemente restaurato nel 2017 ha come modello sicuramente il Cenacolo di Leonardo ma se ne differenzia per la straordinaria ricchezza e varietà di cibi che sono sulla tavola e per i tratti più delicati e femmini degli apostoli che circondano la figura di Cristo. Oltre a queste tre opere la recente riscoperta a merito appunto di Aua ha dato luogo ad attribuzioni per cui alla fine le opere che sono state attribuite a Plautilla sono in tutto 17. Lo stile di Suor Plautilla ha sicuramente un'ascendenza fiamminga per la precisione dei dettagli ma ha anche un sapore dello stile quattrocentesco italiano soprattutto per il tonalismo e per gli alzardi cromatici che si rivelano soprattutto nei tessuti.